L'ospedale IRCS, che significa Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Sacro Cuore di Negrar, provincia di Verona, è l'unica struttura italiana ad essere stata riconosciuta quale Officina di Radiofarmaci dall'AIFA, l'Agenzia Nazionale per il Farmaco. Siamo nell'ambito della medicina nucleare, specialità che utilizza sostanze radioattive, i cosiddetti radiofarmaci, a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica, nello studio e cura di patologie tumorali o neurodegenerative. Per saperne di più abbiamo interpellato il direttore della farmacia con ciclotrone, un acceleratore di particelle elettricamente cariche della struttura ospedaliera scaligera. Un radiofarmaco è una molecola che ha un atomo radioattivo, cioè che decade e emette delle radiazioni. Queste possono essere viste da dei tomografi che vengono impiegati, che sono usati in medicina nucleare per poter diagnosticare quelle che sono patologie, di qualsiasi tipo. La pericolosità è molto bassa, è praticamente inesistente per via delle radiazioni che sono radiazioni molto veloci, infatti siamo anche un po' costretti a lavorare in orari disagevoli proprio per poter venire in fronte a queste e a sfruttarle queste radiazioni. Troppo tempo non permetterebbe l'impiego. Dal punto di vista ponderale, del peso di quello che viene somministrato, stiamo parlando veramente di pochissimo, anzi quasi omeopatica come dosi, il che anche per i rischi del paziente sono molto molto bassi. Di contro l'utilità è enorme perché comunque in qualche modo è la malattia stessa che si fa vedere grazie all'acquisizione di questo radiofarmaco e quindi è possibile fare una diagnostica molto accurata. Siamo stati autorizzati per radiofarmaci di tipo sperimentale e questo permetterà quindi di poter produrre dei radiofarmaci per ricerche di nuove molecole che hanno il compito di vedere letteralmente perché si parla di diagnostica per immagine, di vedere quelli che sono i processi patologici di carattere oncologico ma anche neurologico, cardiologico o anche infettivologico. La diagnostica PET può essere impiegata per tanto. L'importante certificazione di buone pratiche di realizzazione per italianizzare il riconoscimento è giunta proprio alla vigilia di un meeting internazionale organizzato in collaborazione con AIEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a cui hanno partecipato 20 delegati di 15 nazioni, dove l'Italia era rappresentata proprio dall'ospedale di Negrar. Questo tavolo è importante perché permette di diffondere, di uniformare tutta una serie di protocolli e di metodiche per la produzione del zirconio 89, un isotopo di particolare importanza in questo momento per la diagnostica medico-nucleare e di creare anche un'uniformità nella preparazione di questi radiofarmaci che potranno presto e in maniera più efficace arrivare allo studio clinico. I tumori al seno risultano tra le principali patologie in questo momento, dove maggiore è l'applicazione di nuovi farmaci, indicati con il termine immunopet, nell'ambito medico-nucleare. La radiofarmacia del Sacro Cuore diventa a tutti gli effetti una officina in grado di produrre traccianti per le medicine nucleari di tutto il territorio italiano e per conto della principale realtà industriale nazionale che ne curerà la commercializzazione. Quest'ultima ha avuto un ruolo strategico nel delicato e complesso cammino per il processo di certificazione, fornendo un appoggio decisivo alla realtà veronese.